Accolto dall'imprenditore Antonio Giudice, che a Gela ha fondato il movimento, dall'onorevole Alessandro Pagano e dal consigliere comunale Salvatore Farrugge, il leader della Lega, Matteo Salvini, martedì scorso è giunto in città in vista delle prossime elezioni regionali di domenica 5 novembre. Appuntamento al Porto Rifugio. Salvini ha parlato di politica nazionale, ma si è anche soffermato sui problemi che interessano il territorio locale. Un fiume in piena. In questi giorni siciliani quello che mi schiede è lavoro, non miracoli, non mance, ma lavoro. E questo è un esempio di incompiuta. Qua ci passano davanti migliaia di container che potrebbero essere ricchezza, lavoro e sviluppo del territorio, che vanno altrove per l'incapacità della politica, della regione, del comune, del governo di fare quello che dovrebbero fare. Quindi siamo a promettere un impegno affinché questo porto diventi finalmente un porto, cosa che potrebbe dare sviluppo all'intera città. Io non tolgo nulla, ma aggiungo la possibilità di avere il buon governo che la Lega dimostra in tre regioni e in mille comuni a 60 milioni di italiani. E quindi a me piacerebbe che la regione Sicilia riuscisse a usare i foldi pubblici come li usano la regione Lombardia e la regione Veneto, che la sanità fosse migliore di quello che è, che le strade oggi sono stato a Nicosia e mi sembrava di fare rally Parigi-Dakar, nel senso che non ci sono delle buche ma dei crateri. In ferrovia da Trapena e Grigento ci si mettono 9 ore, quindi io non vengo a offrire miracoli, ma a garantire il buon governo che a differenza dei 5 Stelle la Lega offre a tanta gente da 20 anni. 5 Stelle invece in Sicilia come altrove, come a Roma, come a Torino dimostrano la loro totale incapacità. Ha visto l'acqua che sgorga dai rubinetti, dalle abitazioni? A Favara no, era un giorno sfortunato evidentemente, c'è l'acqua a targhe alterne. Si sorride ma non c'è niente da ridere perché nel 2017 non è possibile che un bimbo torni a casa e non possa sapere se può bere o se può farsi la doccia. Oltretutto con i siciliani che pagano l'acqua al triplo rispetto ad altri, quindi ho chiesto a Musumeci normalità. Guarda, vinciamo domenica, poi da lunedì senza miracoli adoperiamoci per riportare alla Sicilia quello che merita di essere con normalità, senza cose eccezionali anche a Gela, facendo cose normali. Proprio oggi è uscita la notizia che la Procura di Firenze sta indagando Berlusconi e Dell'Utri come mandanti per le strage del 92-93. Anche Berlusconi è un'impresentabile? Inchiesta ridicola e soldi pubblici sbattuti via. Lo dico nel giorno in cui ho avuto l'onore di andare a trovare Livatino e Saetta al carcere di Canicati, i loro parenti e le associazioni che portano avanti la loro battaglia, il loro nome e la loro onorabilità. Quindi spero che ci siano magistrati che la smettano di fare politica con indagini inesistenti. Tornando all'ambito locale, il vostro commento sulla chiusura dello stabilimento? Il lavoro prima di tutto, questo vale per l'ilva di Taranto come per lo stabilimento di Livorno. Mi domando perché il governo abbia avuto tanta attenzione da qualche parte e tanta meno attenzione da altre parti e perché in regione qualcuno abbia dormito per troppi anni.